Benvenuti anche oggi al seminario del laboratorio dal basso, settimo incontro. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegnere Luigi Campagna che oltre a essere professore e insegna al Politecnico di Milano ma si occupa normalmente di organizzazione, di progettazioni, di reti organizzative e quindi ci darà una mano per capire anche come poter strutturare meglio un'ipotesi magari di una rete museale o di un distretto culturale. Io colgo l'occasione sia per presentare il professor Campagna ma anche per introdurre poi nello specifico, oggi si parlerà anche del distretto culturale, per esempio delle marche, di altre tipologie di organizzazioni similare, però il professor Campagna poi lo avremo anche domani e dopodomani insieme alla collega Vita Santoro che magari Vita viene anche tu, quindi io invito anche il professore sia magari a farci un breve riassunto delle tematiche che affronteremo oggi ma anche di introdurre soprattutto il lavoro che andremo a condurre nei due giorni, cioè domani e dopodomani e che vedrà appunto anche Vita come codocente per quanto riguarda questa attività. Buon lavoro e vi passo il professor Campagna così ci introduce l'argomento. Grazie, posso parlare con questo perché mi sembra... Vi ricordo che chi vuole fare degli interventi se può chiedermi sempre il microfono per una questione legata allo streaming. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Luigi Campagna, non sono un ingegnere, naturalmente lo stereotipo è politecnico ingegnere. Nasco umanista e mi sono ibridato con gli ingegneri, quindi do l'impressione di essere un ingegnere. Io insegno sistemi organizzativi a Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, non sono un accademico e faccio molta attività di formazione e di consulenza. Insegno anche al Master del Politecnico, progettazione e teorie organizzative. Nella mia esperienza professionale ho conosciuto diversi mondi, pubblici e privati, di produzione di servizio. Sono anziano, quindi ho avuto modo di frequentare diversi ambienti. Mi occupo principalmente, diciamo, il mio mestiere, sono le questioni organizzative. Della tematica, diciamo, dei beni culturali, ho poca conoscenza diretta, diciamo, io non ho fatto mai interventi sui beni culturali, ho fatto invece interventi sui sistemi di governo delle amministrazioni collegate anche ad aspetti, diciamo, dei beni culturali, quindi, diciamo, esperienza specifica di reti di musei, reti di biblioteca o altre reti, non ne ho. Ho invece, diciamo, esperienza di altre tipologie di reti di cui vi parlerò oggi. Io pensavo di impostare questa giornata su tre temi. Il primo tema sarà, diciamo, come, quali strumenti di tipo organizzativo io vi posso offrire nella progettazione di reti. Quindi un po' quello che è il mio mestiere. Poi vi, diciamo, racconterò una mia lettura di casi di organizzazione a rete nel mondo produttivo e di organizzazione a reti nei sistemi pubblici, in particolare, diciamo, con riferimento a queste nuove tendenze che da alcuni anni si stanno affermando, dei distretti culturali o degli ambiti territoriali. Ci fermiamo, però, a questa definizione. E qui vi presenterò in particolare il caso Marche, che conosco di più, perché, diciamo, è anche una storia un po' lunga e quindi possiamo un po' seguire il percorso di come si è sviluppato, diciamo, questo sistema e cosa attualmente bolle in pentola. Mi sono orientato sul vostro sistema dei sac, orientato nel senso che ho guardato un po' di materiali, però, francamente, diciamo, sul sac e sui sistemi territoriali vostri ho visto dei materiali ma non ho delle esperienze da raccontarvi. E poi vi proporrò, diciamo, in chiusura della giornata quelli che sono gli elementi che oggi fanno parlare di modelli di organizzazione a rete, quindi cosa esiste, diciamo, di strumentazione, di teorizzazione che ci permette di capire cosa distingue un'organizzazione a rete da altri tipi di organizzazioni. Questi sono, diciamo, il percorso della nostra giornata. Nei due giorni di laboratorio, io so grossomodo chi partecipa perché mi hanno dato l'idea, diciamo, del laboratorio dal basso, chi potevano essere rappresentanti. So che siete di varia provenienza, quindi il laboratorio dal basso lo adatteremo alle esigenze che emergono dalle persone che parteciperanno. In particolare nel nostro, diciamo, documento introduttivo avevamo chiesto di portare nel laboratorio documentazioni o esperienze su cui va la pena di ragionare. Il percorso, grossomodo, potrebbe essere così. Essendo una rete, una filiera destinata a realizzare prodotti e servizi, diciamo in maniera molto semplice, che sono collegati a processi in rete di produzione e a sistemi di gestione, il laboratorio dovrebbe seguire questi tre passaggi. Ma per costruire questi sistemi bisogna progettarli e quindi chiuderemo con la progettazione. Quindi i passaggi potrebbero essere quattro. I prodotti e servizi in portafoglio o in realizzazione, il sistema dei processi che li realizza, i sistemi di gestione che possiamo strutturare e gli elementi di design, cioè progettazione, e di project manager, cioè di gestione dei progetti, che si possono utilizzare. Questo è lo schema. Naturalmente in funzione anche del vostro livello di conoscenza possiamo accentuare o glissare su alcuni aspetti. Oggi la giornata invece la vorrei concentrare su questa mia proposta di riflessione sul sistema a rete. Quindi come arriviamo a parlare di modelli organizzativi a rete e che cosa dobbiamo intendere per. Dico che cosa dobbiamo intendere per perché una piccola introduzione, diciamo, terminologica, la mia storia umanistica mi aiuta e noi usiamo spesso in maniera molto allusiva e metaforica il linguaggio di progettazione. Siamo pieni di allusioni. Le allusioni però, come tutte le analogie, aumentano il significato ma disperdono la focalizzazione. Allora, quando parleremo di rete, tutto è rete e dobbiamo stabilire qual è il perimetro di quello che intendiamo per rete. Se parliamo di distretto, sicuramente è un ambito produttivo e territoriale, e se parliamo di distretto culturale probabilmente dovremmo capire quali sono i colpini. Una seconda questione molto importante. L'affermazione delle organizzazioni a rete è, diciamo, un'esperienza che nasce dai mondi produttivi. Se lo inseriamo in un ambito di governance pubblica, questa è la seconda questione importante, dobbiamo capire qual è il bilanciamento fra il sistema della governance e il sistema delle reti. Per dirla in maniera molto semplice, se la regione ha un suo progetto di fare la rete delle reti, chi fa le reti sotto, come si relaziona con questa rete delle reti e come a sua volta costruisce la rete. Se no finiamo per creare un sistema di governo infinito per cui c'è il sistema di governo ma non c'è la rete. Questo, diciamo, mi serve. Allora, per questo vi propongo questa prima differenza, di livelli di progettazione organizzativa. Magari spengo qualcuna delle... Eccolo qua. Quali sono gli elementi e i livelli della progettazione organizzativa che utilizzeremo? In genere, nella progettazione organizzativa, i livelli sono tre. Li ho segnati in verde, quelli su cui ci concentreremo e ho lasciato in piccolo quelli che non affronteremo. Allora, il primo livello classico di ogni organizzazione è la cosiddetta macro-struttura, cioè l'articolazione delle responsabilità organizzative all'interno di un mondo che deve realizzare dei risultati, prodotti o servizi o d'altro, in cui il lavoro viene diviso fra strutture diverse e coordinato. La macro-struttura è un classico elemento di progettazione, diciamo, semplificando, l'organigramma. Un secondo livello classico della progettazione organizzativa è quella che si chiama la micro-organizzazione, cioè come le persone e i gruppi vengono combinati per realizzare le attività di cui sono titolari, ed è il secondo livello. Naturalmente, nell'organizzazione classica deve esserci una coerenza fra macro-struttura e micro-struttura. Quindi, se io ho distribuito i poteri in un certo modo a livello macro, non posso poi a livello micro trovarmi, ad esempio, c'è un modello gerarchico a livello micro e c'è un livello di delega, di partecipazione a livello... Non funziona. Prego. Poi ve le lascio, ecco. No, non ve le ho mandate... Non ve le ho mandate prima, no. Andate tranquilli. Non ve le ho mandate prima perché ci ho lavorato fino a ieri sera. Perché è da qualche giorno che ci sto lavorando perché dovevo, diciamo, rimpostare il tema. Diciamo, questi sono quindi gli strumenti classici e li troviamo poi nelle nostre strutture quando, ad esempio, vengono quelli della qualità e ci dicono chi sono i responsabili di e e trovate esposto un organigramma, poi trovate un mansionario che dichiara che cosa devono fare le persone, eccetera. Una grande, diciamo, innovazione degli anni 90 è stata avere messo in evidenza un altro livello di progettazione che veniva trascurato, quello che si chiama il livello meso. Che cos'è il livello meso? La figura ci aiuta un po'. Allora, il livello macro, vedete, è un organigramma per cui l'organizzazione A all'organizzazione B comandano delle unità. Dentro le unità ci sono delle persone, dei gruppi. Ho messo due organizzazioni perché? Perché ho applicato, a questo punto, ho considerato la rete come un insieme di organizzazioni. Quindi ci saranno due organizzazioni che magari poi si dovranno coordinare che hanno un loro organigramma e una loro microstruttura. Il livello meso che cos'è? Il livello meso è l'approccio alla progettazione e analisi organizzativa che considera non i coordinamenti verticali tra le strutture, ma considera i coordinamenti orizzontali. Questo coordinamento orizzontale nell'organigramma non c'è, nel mansionario non c'è. Dove lo troviamo? Lo strumento di analisi e progettazione che è stato, diciamo, in questi anni fortemente sviluppato è quello dell'analisi per processo. Quindi uno dei cuori della progettazione di un'eventuale struttura anche a rete, essendo la rete un coordinamento fra parti, lo possiamo fare con un modello gerarchico, ma lo possiamo fare con un modello processuale. Ok? Ecco da qui il segno rosso, diciamo, dell'elemento su cui ci focazzeremo. Quindi, ad esempio, nella giornata di domani, se approfondiamo un esempio di rete, la prima cosa che dovremmo dire è quali sono i processi che caratterizzano questa rete. Ma essendo una rete, cioè strutture con autorità differenti e gli organigrammi A e B ce lo rappresentano, nasce un secondo problema, un'esigenza di coordinamento al di sopra delle organizzazioni. Ecco perché uso la parola meta-organizzazione. Al di sopra delle organizzazioni perché? Perché le organizzazioni che entrano nella rete per stabilire come funziona il modello non possono stabilirlo solo a livello operativo, devono stabilirlo anche a un altro livello. Quindi la progettazione delle reti si fa quantomeno a due livelli. la meta-organizzazione, cioè l'insieme delle organizzazioni che decidono come lavorano, la meso-organizzazione che operativamente vede come si intrecciano i contributi delle varie strutture. Facciamo l'esempio di una rete museale. Se abbiamo n musei con n proprietà e responsabilità e vogliamo mettere in rete dei servizi fatti, dovremmo andare a studiare quali sono i servizi e quali sono i processi per capire se attraversano le organizzazioni, si distribuiscono fra le organizzazioni, sono isolate, eccetera. E dovremmo stabilire come questa rete si governa e quindi come si fa un'organizzazione dell'organizzazione. Se in più questa rete è dentro un sistema pubblico che vuole a sua volta avere la governance delle reti, nasce il problema di come ci spostiamo da questo livello meta-organizzativo della mini-rete o della filiera a quello meta-organizzativo della rete delle reti. Diciamo, la rete Musenet, voi avete sicuramente un'integrazione di processo perché è data dalla tecnologia. La tecnologia cos'è? È una piattaforma di coordinamento e di lavorazione su base tecnologica. Se io la Musenet me la porto dentro la mia struttura ho inventato un sistema di coordinamento fra le strutture che contribuiscono dando, ricevendo o consegnando. Ma per poterlo fare ho dovuto stabilire da qualche altra parte come questo sistema dovesse essere strutturato e governato. E quindi mi nasce una seconda questione molto interessante. La meta-organizzazione a questo punto di cosa si occupa. Allora, come è l'architettura della piattaforma, qual è il mantenimento della piattaforma e così via. E quindi la meta-organizzazione poi si porrà il problema non solo di come si fanno i processi ma quali sono i modelli organizzativi forti che stabiliscono la relazione fra le parti. Questa è la lettura organizzativa. Allora, perché siamo arrivati a questa lettura? Quindi diciamo questa bella vi dirò quindi quando noi parliamo di progettazione ci riferiamo a questi aspetti. Sicuramente ci sono implicazioni di altra natura benvengono i contributi di altra natura il mio può essere diciamo limitato diciamo a questo ambito. Allora come siamo arrivati a questa idea? Qui semplicemente faccio vedere come si può fare una mappatura di processi di una grande struttura pubblica però questa differenziazione fra tre grandi aree di processo il primo diciamo classicamente il modello che si usa per prima il processo è che si risposto a valersi dei suoi servizi se lo applico alla pubblica amministrazione questo è un esempio di applicazione alla pubblica amministrazione i clienti sono certi soggetti e i prodotti sono altri se fosse un produttore di scarpe e fosse il distretto marchigiano della calzatura i prodotti sono altri prodotti primari cioè quelli che realizzano i prodotti per gli utenti poi abbiamo altri due tipi di prodotti o di processi per poter fare questi processi primari io ho bisogno anche di altri sostegni ci chiamiamo processi di supporto ad esempio come mi organizzo come gestisco le persone come recuto il personale come faccio le piattaforme sono anche questi visti in termini processuali a questo punto i clienti di questi processi sono o esterni i fornitori o interni e poi abbiamo i processi di governo processi di governo che quindi hanno altri tipi di cliente qui ad esempio della pubblica amministrazione quindi c'è il territorio ci sono gli amministratori ci sono le direzioni e a cui dobbiamo dare altri servizi quindi se noi ci appliceremo poi a uno specifico diciamo settore in cui applicare questa è la prima cosa che dobbiamo fare mappare i nostri processi qualcuno l'ha già fatto visto che ci esistono già molte esperienze in giro naturalmente fra questi processi c'è una relazione c'è una relazione diciamo la mappa successiva ci dice che c'è una relazione ortogonale perché i supporti del governo si mettono diciamo in relazione con i processi primari i processi primari a questo punto possono essere articolati per settore e ciascuno realizza coordinandosi dovrebbe funzionare così realizza coordinandosi dei prodotti e dei servizi che permettono al sistema organizzativo di funzionare naturalmente una vista processuale si scontra fortemente con invece un'architettura organizzativa della pubblica amministrazione che è dipartimentale questa è la vera difficoltà di applicare questo strumento cioè il modello per responsabilità di ambito in cui dentro l'ambito cerco di mettere tutto quello che mi serve finisce per confliggere con l'idea della integrazione da qui forse l'uso metaforico di certi concetti che sono nati in ambito pubblico le reti distretti le parole unificanti cioè in realtà c'è un fabbisogno di formidabile di integrazione di strutture specialistiche di cui molte delle soluzioni sono un modo per risolvere il tema chiave come integrare i dipartimenti per focalizzare gli sforzi massimizzare i risultati e rendere coerenti i benefici perché certe volte i benefici sono incoerenti faccio l'edilizia pubblica e faccio l'intervento sociale con l'edilizia pubblica faccio anche un intervento di tipo sociale e con l'intervento sociale abilito delle persone a utilizzare dov'è il punto di connessione il punto di connessione nell'amministrazione non c'è un altro esempio voglio facilitare il rapporto con i cittadini buongiorno faccio lo sportello e diciamo faccio lo sportello unico solo che ogni dipartimento ha il suo sportello unico l'utente vuole un unico sportello non gli sportelli unici ma per fare lo sportello unico io devo coordinare il sistema processuale che c'è dietro se invece lo canalizzo e cosa ottengo? ottengo una focalizzazione per ambito un disservizio per gli altri e un conflitto sulle risorse questa è la vera grande difficoltà in cui ci troviamo naturalmente questo non riguarda solo la pubblica amministrazione riguarda anche i mondi produttivi perché anche i mondi produttivi hanno spesso questo tipo di impostazioni e quindi far funzionare reti in ambienti in cui c'è anche la competizione non solo la specializzazione di legittimità io sono l'agricoltura e l'altro è la sanità in rete richiede un intervento organizzativo ma un intervento di costruzione della rete che questo sì è un elemento prima di tutto culturale in senso ampio è un modo di vedere il rapporto fra sistemi allora questa lettura adesso poi la lasciamo e cominciamo a entrare nel nostro o se ci sono domande naturalmente poi questi processi si possono scomporre ma questo lo vedremo dopo allora su quel modo di vedere l'organizzazione abbiamo visto è nata una teoria organizzativa la teoria organizzativa era fare le strutture dare responsabilità fare le microstrutture governare attraverso l'autorità sostanzialmente l'insieme perché ogni organizzazione ricordiamoci che è frutto sempre di due scelte come divido il lavoro e come lo coordino questo è il quesito organizzativo chiave sempre perché perché l'organizzazione nasce dal momento che uno da solo non riesce a fare quello che serve allora il problema è chi fa che cosa detto in gergo e poi come questi che fanno cose convergono sul risultato la storia diciamo industriale dell'occidente e anche la storia amministrativa dell'occidente ha portato diciamo a forme dicevamo di specializzazione e di organizzazione fortemente dipartimentalizzate l'esperienza dell'ultimo ventennio diciamo così ha fatto nascere accanto a quella prevalente mondo delle grandi imprese o delle grandi strutture dipartimentalizzate forme di produzione realizzate per cooperazione fra imprese diverse due tipologie in genere qui sono gli studi economici che trovano questi modelli lo cosiddetto agglomerato o addirittura la crescita di filiere di subfornitura le grandi imprese che prima si erano costruite in modo da avere all'interno tutte le strutture che servivano per produrre per effetti di innovazione della competizione della cultura anche del consumo che c'è stato nel nostro mondo hanno cominciato a come si dice a pulire le loro strutture e hanno avviato tutta quella che è la tematica dell'esternalizzazione l'esternalizzazione quindi che cosa ha fatto ha fatto sì che parte dei processi produttivi uscissero dal perimetro proprietario ma rimanessero coordinati dal punto di vista del sistema produttivo cioè se io esternalizzo i sistemi informativi ma i sistemi informativi mi servono la proprietà cambia ma la relazione con i sistemi informativi deve rimanere se io esternalizzo adesso appunto magari nella pubblica amministrazione lascerà l'esigenza di esternalizzare devo dare servizi fuori ma dare servizi fuori sicuramente chiede soggetti che siano titolati a farlo ma poi questi servizi devono essere coordinati perché se no il sistema muore questo tipo diciamo di azione si è stesa a tante imprese quindi abbiamo due mondi sostanzialmente il mondo che ha cercato di fare squadra perché per le dimensioni che aveva non era in grado di avere tutta la proprietà all'interno e il mondo che invece è diventato sempre più forte ha esternalizzato ma ha creato sistemi di relazione con le imprese con cui esternalizzava in particolare questa seconda cosa l'ha fatta la grande impresa e la grande impresa ha fatto due operazioni forti non solo ha esternalizzato quelli che l'hanno fatto con intelligenza ma anche mantenuto il governo della filiera quindi esternalizzo è facile nel senso mi riduco i costi fissi affidando il costo a qualcun altro che teoricamente dovrebbe comunque un problema suo poi comprerò i servizi da lui in modo che io rendo variabile il costo piuttosto che averlo fissa ma non basta non avere più il costo il problema è assicurarsi il servizio allora diciamo è nata tutta la quella che si chiama la supply chain mi dite man mano che vi presentate così io capisco chi c'è eh no io mi chiamo Stallone dicevo questo la esternalizzazione di un servizio tipo per esempio ho visto con l'Italia con le industrie verso la Cina ha prodotto anche una mancanza di controllo rafforzando diciamo gli altri stati e alla fine diciamo hanno la capacità di altri stati di poter comandare dei servizi o avere il possesso di quello che era il servizio che loro avevano esternalizzato invece a mio avviso avrebbero potuto dare un pezzo della produzione a ciascuno e separate eccetera per poter avere poi dopo il rientro di tutta la produzione e controllare il discorso invece così facendo si è avuto diciamo la perdita della possibilità e rafforzare gli altri stati quello che è avvenuto con la Cina o la Corea o altri così vari gli altri stati in generale l'osservazione la svilupperemo dopo perché vi presenterò le esternalizzazioni fatte di delocalizzazione perché l'esternalizzazione è dare il servizio fuori poi c'è il passaggio di delocalizzarlo con due modelli c'erano due modi per fare delocalizzazione vedremo il caso italiano che fortemente caratterizzato ma vedremo altri casi che non sono caratterizzati così tra l'altro nel pendolo del make or buy e dell'esternalizzazione adesso ad esempio c'è nel sistema americano un flusso di ritorno di lavorazioni c'è un interessante articolo dell'Harvard Business di qualche anno fa in cui dimostravano come stavano perdendo competenze su certi segmenti produttivi per un eccesso di esternalizzazione giocata in questo modo ma vedremo leggeremo anche questi modelli perché sono interessanti cioè perché ne parliamo non perché dobbiamo fare un distretto produttivo del settore industriale se vogliamo fare una rete ecco questa è l'idea se vogliamo fare una rete dobbiamo conoscere le architetture di rete che ci servono allora uno studio potente sicuramente sono i sistemi produttivi perché avendo un problema di sopravvivenza e di competizione hanno dovuto sperimentare forme di rete interessanti allora una sperimentazione forte è quella delle supply chain cioè della catena della fornitura solo che questo tipo di rete ha una caratteristica forte ha un padrone ha un padrone cioè ha un punto di comando e di proprietà poi vedremo che all'interno non è tutto proprietario però ha un padrone è una cosa il primo elemento la seconda è quindi scegliere se fare in casa make o se comprare è stata la scelta diciamo strategica dopodiché questa catena che è nata va ottimizzata se no facciamo il turismo delle merci eccetera eccetera ok il secondo settore interessante che noi poi come Italia dovremmo essere particolarmente attenti è il settore dei cosiddetti distretti i distretti di che cosa sono perché sono interessanti perché fanno capire quali sono gli elementi che tengono insieme le reti forti quindi che non è il comando l'ottimizzazione quindi una visione centralizzata ma diciamo sono due caratteristiche forti sono studio vecchio questo dei distretti però sono importanti la prima è la cosiddetta l'economia esterna in un distretto vedremo che certe aziende entrano in relazione proprio perché si avvalgono di benefici esterni all'azienda e che sono disponibili sul territorio questo è molto interessante perché se noi parliamo di reti territoriali il tema dell'economia esterna anche se non sarà un sistema produttivo è un problema centrale cioè quali sono le economie che io tengo stando in questo territorio non i finanziamenti non i finanziamenti le economie la seconda cosa interessante del modello distrettuale è che le relazioni fra le imprese non sono affidate alla gerarchia come nella supply chain io comando e quindi dispongo sono fatti di relazioni in gergo di transazioni c'è un grande studioso della transazione nell'organizzazione Williamson premio Nobel di tre anni fa dell'economia che ha applicato poi la teoria dei costi di transazione alla pubblica amministrazione sarebbe interessante approfondire questo tema che cos'è la transazione la transazione sono tutti quegli accordi che si stabiliscono fra soggetti e che per poterli fare hanno un costo se io devo cercare devo fare un contratto con qualcuno lo devo cercare devo incontrarmi con lui devo fare il patto devo fare le clausole devo mettergli le penali devo monitorarlo questa transazione ha un costo allora spesso che succede quando le transazioni sono frequenti a un certo punto dico sai che ti dico se tu vieni da me la facciamo prima e ti coordino con la gerarchia entri nella mia organizzazione e abbiamo risolto il costo di transazione naturalmente se ti porti in un'organizzazione poi c'è il controllo e nasce un dilemma ma quant'è il costo della gerarchia non mi converrebbe portarlo fuori quel make or buy allora nel distretti le transazioni sono facilitate e sono a basso costo guardate perché è la struttura sociale che garantisce il patto arriva una commessa io ho bisogno di uno che mi deve fare la tomaia gli telefono e lui me la fa non passo dall'avvocato il commercialista la camera di commercio cioè quindi ci sono due grandi vantaggi uno sono più economiche alcune risorse che posso utilizzare perché sono risorse che caratterizzano il territorio e sono comuni da qui la teoria dei beni comuni la seconda cosa interessante è che la transazione è a basso costo perché essendo dello stesso milieu culturale ci fidiamo è una cosa difficile da diciamo strutturare organizzativamente ma è così non solo ma in tre parole capiamo che che tipo di pelle che cuciture mi devi fare non ho bisogno di spiegarti e quindi la transazione non è solo commerciale è anche produttiva e man mano che nel tempo il distretto funziona questi costi di transazione si abbassano notevolmente e cresce un apprendimento distrettuale questa è la cosa interessante del sistema distretto che spinge a cooperare competitori perché hanno vantaggi nella cooperazione che non sono basati sull'uso strumentale del rapporto ma su un uso paritetico e fiduciario naturalmente quando c'è crolla la fiducia crolla il rapporto ok allora questa questione della rete dal distretto che è la piccola Italia che un po' l'ha inventato i distretti marshalliani che si erano costituiti in ambiente dove il grande fordismo non aveva fatto la grande impresa verticale sono state di fatto presi come modelli di riferimento come esempi per costruire queste catene globali anche nelle catene globali proprietarie ci accorgeremo che non tutto è proprietario che molte delle transazioni sono transazioni di rete cioè la rete sta diventando un vero e proprio modello di organizzazione così potente da somigliare a quella rivoluzione che il toyotismo ha fatto negli anni 70 col just in time perché che cosa permette la rete permette economie di scala permette economie di apprendimento comporta specializzazione ed è capace di essere flessibile quindi ecco perché diciamo è un paradigma organizzativo perché risponde a fabbisogni di organizzazione che attraverso il modello gerarchico proprietario io non riesco a realizzare quindi non è un moto altruistico è un moto profondamente egoistico egoistico che spinge a trovare l'interesse comune e quindi risolve in modo con un pay off non grave il dilemma del prigioniero competere o cooperare questo è quello che si vede se si vanno a studiare le rete poi vi farò vedere alcune di queste cose sono ricchissime di questi esempi naturalmente questa modalità siccome sta diventando un riferimento adesso lo troviamo dentro le politiche questo concetto di cooperazione di partnership di rapporti di cointeressenza anche le politiche delle governance europee e nazionali sono impregnate di questa diciamo di questi di questi elementi e quindi un risultato contestuale diciamo sul sistema di governo di effetti che i sistemi produttivi hanno sperimentato pagato a caro prezzo perché poi le storie non sono tutte tutte positive ma diciamo in un'ecologia delle popolazioni organizzative ci accorgiamo che queste popolazioni tendono a insediarsi a sopravvivere e si stanno strutturando quindi possiamo imparare delle cose ecco perché parlando di distretti culturali evoluti per prima io parlerò di distretti industriali distretti produttivi perché ci possono dare alcuni grandi suggerimenti ditemi se devo continuare così accelerare glissare mi aspetto vostre diciamo indicazioni in itiner quindi qualunque intervento che ci permetta di orientare quello che dico è ben accetto e qui viene raccontata che cosa significa andare verso il modello della rete andare verso il modello della rete significa agire sostanzialmente su due elementi il primo elemento per essere in una rete deve esserci un rapporto di interdipendenza fra le cose delle cose che faccio se io faccio gelati e l'altro fa microonde è un po' trovare l'interdipendenza ma se io faccio un semi un componente e l'altro ne fa un altro e un terzo ne fa un altro ancora e l'interdipendenza c'è quindi c'è un problema di interdipendenza delle attività in un sistema rete le attività che entrano devono avere forme poi vedremo quali tipi ma c'è un secondo problema siccome ogni organizzazione è autonoma la rete impone un decentramento dell'autorità cioè io debbo cedere parte dell'autorità e qui abbiamo una prima grande classificazione allora cosa è successo che il modello dell'azienda fornista quello che dicevo prima si è mosso come? facendo reti lunghe quindi aumentando l'interdipendenza nella filiera logistica ma mantenendo il comando il distretto italiano che cosa ha fatto? ha una bassa interdipendenza fra le attività ma ha delegato diciamo molto l'autorità perché le reti fra di loro sono di volta in volta capofila o sussidiari quindi accettano che la commessa ce l'ha uno la commessa ce l'ha l'altro pur essendo ognuno specializzato nello stesso oggetto quindi l'interdipendenza è bassa ma è interesse comune avere un'autorità di coordinamento l'esempio più forte diciamo nuovo è quello poi invece di arrivare alle reti in cui l'interdipendenza è forte e la delega dell'interdipendenza è forte questo è un po' lo schema di gioco quindi noi ci posizioneremo in questo diciamo diagonale delle reti lunghe e deboli per arrivare alle reti integrate vedremo diciamo esempi specifici la joint venture è un esempio organizzativo tipico di soggetti diversi che mettono insieme attività ci investono insieme e delegano la teatrice per poter fare il prodotto naturalmente nascono problemi che quando sono alla joint venture devo capire fino a che punto sto facendo l'interesse della joint venture sto facendo l'interesse del partner o sto facendo l'interesse della mia proprietà c'è un problema diciamo importante e quindi diciamo stiamo assistendo quindi alla evoluzione di questo genere il fordismo va diciamo in difficoltà proprio su questa idea forte che lo caratterizzava la grande internalizzazione dell'attività e il presidio diciamo del specialismo frammentato evolve con queste forme in cui riesce a fare un'impresa un sistema produttivo che è più grande del perimetro proprietario del sistema stesso e questo perché l'ha fatto perché il fordismo diciamo che cosa ha cercato di fare la prima cosa è siccome il sistema si afferma e diventa più potente dei sistemi artigianali perché è imparato a standardizzare ricordate che noi arriviamo a questo modello passando dal modello dei mestieri degli artigiani in cui c'è la manualità forte ma quando devi mettere insieme i pezzi i pezzi se non hanno uno standard non funziona quindi che cosa fa il modello taylorista fordista mi porto dentro tutti i fornitori dei vari pezzi in modo che impongo fortemente da subito lo standard e quindi faccio efficienza e quindi hanno fatto fuori il modello artigianale per questa grande competizione con aumenti cioè da questo punto di vista l'aumento di produttività che è venuto dal sistema fordista è inimmaginabile naturalmente abbiamo visto che vanno in crisi questi modelli quando la competizione si modifica e quindi che cosa succede succede che le piccole imprese che abbiamo visto nel distretto perché diventano forti perché hanno diciamo tre caratteristiche primo sono specialisti ma contemporaneamente sono flessibili questa è una grande invenzione cosa vuol dire essere specialisti ed essere flessibili essere capaci di assicurare qualità produttiva elevata specializzazione ma variabile flessibile allora la piccola impresa con quegli accordi per cui divide la commessa assicura la flessibilità grandi volume piccoli volume terza questione importantissima capacità di fare partnership non solo fra piccole imprese difatti le piccole imprese cominciano ad entrare nei sistemi di fornitura delle grandi imprese sanno fare partnership con le grandi imprese hanno competenze e fanno innovazione quindi difatti i distretti che decaderanno sono proprio quelli che saranno deboli su questa parte allora questo già ci dice alcune cose importanti della rete nella rete sono importanti questi requisiti primo avere un proprio ruolo cioè avere una competenza distintiva presidiare uno specialismo se non presidi lo specialismo la domanda è che ci stai a fare questa è la prima questione la seconda questione è porsi il problema non di fare il terzista cioè vendere ore ma di fare partnership cioè vendere soluzioni non ore io non ho a me servono cento ore di capacità produttiva in più vengo da te no io ti offro una soluzione che a te serve ed è di partenariato il rapporto anche se sei grande perché io la mia specializzazione è diventata non la fornitura del componente ma è diventata la fornitura di un sottosistema e la terza caratteristica essere capaci di reagire alla variazione di mercato alla variazione di mercato qui c'è tutto un altro settore interessante da esplorare sulla flessibilità organizzativa ma lo vedremo diciamo in altri momenti allora questo spinge da modelli di imprese grandi integrate verticalizzate a forme di impresa in cui ci sono questi rapporti che vengono raccontati anche lì con la immagine della filiera come erano chiamate filiere le lavorazioni nei reparti in sequenza fin dalla studio di Adam Smith sulla fabbrica degli spilli si accorge che c'è una filiera questa filiera viene sviluppata dentro il distretto ma viene sviluppata anche delle imprese che esternalizzano perché inventano un altro marchigegno di rapporto con i fornitori non solo esternalizzo ma comincio a dire ai fornitori di fare loro una loro struttura di risposta al mio fabbisogno il vecchio modello anche diciamo della fabbrica integrata era di avvalersi di tanti piccoli fornitori e di andare quindi costi di transazione elevatissime e quindi necessità di interfacciare n soggetti col just in time il salto qual è? io chiedo a uno dei miei fornitori di organizzare lui i fornitori sotto dietro di lui in modo che avendo tanti fornitori dietro lui può reagire alla catena produttiva e rispondere alla flessibilità alla varietà pensate anche questo aspetto in altri ambienti invece di avere la pletora degli n soggetti che sono esattamente gli stessi se questi n soggetti sono un nodo che al suo interno vannirà ma sono un nodo e non sono una molteplicità io la relazione la posso gestire ma se sono mille sono cento io non le posso gestire allora questa è una grande caratteristica coordinare facendo filiera a questo punto c'è stata un'evoluzione non fornisci più il componente cominci a fornire componenti aggregati o sottosistemi è un'altra lezione molto importante quindi trovare modo per far fare massa critica a soggetti che sono in grado di fornire moduli elementi completi integrabili con altri e non parti componenti eccetera la parte componente ti spinge verso il terzismo e quando la tua ora costa di più di quella vietnamita l'ora vietnamita è subito preferita poi imparano a fare sottosistemi anche loro e come diceva lui li fregano subito bellamente quelli non bravi o spariscono o vengono risucchiati dentro questo è il dato di fatto quindi questo è un aspetto della selezione della popolazione organizzativa l'ultima questione è la cosa interessante che la finire a questo punto che cos'è ecco qui è un sistema stabile di fornitura fatta da tante imprese che sono su un ciclo produttivo prendiamo il suggerimento se io nella mia rete ho altri sub fornitori dietro devo andare al sottosistema a capire qual è la filiera produttiva che c'è dietro seconda cosa queste operazioni sono concatenate e questi pagamenti perché sono diventati nel tempo delle routine all'inizio è costoso il sistema ma il sistema quando si stabilizza è una filiera se è stabile e se corrisponde a una sequenza di produzione attività e di pagamenti perché ricordiamoci siamo ancora in una relazione fra soggetti con autorità differente se io i percorsi li strutturo anche la transazione diventa meno costosa quindi non solo appartiene al milie sociale per cui mi fido ma se ho n modelli la commessa A la gestiamo così la commessa B la gestiamo così e queste sono le forme più diciamo diffuse di queste reti verticali abbiamo il modello tradizionale quello che è nato che è prima della diciamo della filiera di cui vi parliamo che è appunto il modello della grande impresa che ha mille piccoli fornitori che la provvigionano e che quindi debbono essere comandati e governati tutta dalla casa madre e quindi diciamo poi comincia a nascere il modello della diciamo dell'impresa che ha sempre l'impresa leader e ci sono fornitori che sono diventano strategici a questo punto per quell'impresa ecco l'altra cosa importante sono parte del mio sistema produttivo ma mi interessa che siano capaci di governare un sottosistema questo comporta problemi non solo di transazione ma di trasparenza nei flussi produttivi enormi se io ho una variazione di mercato questa informazione deve arrivare al subfornitore tempestivamente perché se no il subfornitore non è in grado di rispondere tempestivamente questo significa che deve avere un sistema informativo di comunicazione questo significa che deve avere un sistema di gestione comune fra me e lui questo significa che il vincolo di fiducia e contrattuale è rinforzato da un vincolo produttivo e gestionale se modifico il prodotto devo fare specifiche che lui sappia interpretare e magari farle in modo che siano ben ottimizzate con i sistemi produttivi che lui ha messo in piedi anzi che colgano il vantaggio del fatto che lui ha fatto un'innovazione così io riesco a ottenere un prodotto che con un'altra filiera non otterrei volevo fare un veloce parallelo volevo fare un veloce parallelo fra la terminologia di impresa leader e un po' quello che è il contesto un po' culturale e di quella che viene denominata l'industria creativa anche facendo un riferimento un po' alla situazione regionale cioè nella prima immagine l'immagine A noi abbiamo un sacco di micro imprese ed esiste quindi un'impresa leader finale non esiste un corrispettivo nel sistema culturale perché non esiste la Fiat e via dicendo però diciamo questa diapositiva mi fa venire in mente una cosa che il percorso che si è avviato probabilmente da un po' di tempo a questa parte è quello attraverso la creazione di aggregazioni territoriali poi diciamo da verificare appunto la perimetrazione la non perimetrazione però il concetto dell'aggregazione territoriale di enti locali e quindi la creazione di un unico soggetto come dire che coordina tutto l'outsourcing di servizi esatto diciamo porterebbe al discorso della figura c della slide ora il discorso qual è che appunto noi ci troviamo in una condizione che fino a quando non metteremo questo volevo condividere un po' con i colleghi presenti fino a quando noi non avremo delle stazioni appaltanti barra imprese leader che organizzano l'offerta culturale avremo difficoltà a sviluppare tutta la filiera quindi dei servizi diciamo in outsourcing per questi soggetti appaltanti e quindi o attraverso discorsi di aggregazioni che si chiamano sistemi ambientali e culturali o attraverso creazioni di soggetti nuovi tipo fondazioni come abbiamo visto il caso che sta nella provincia di Siena appunto che è una fondazione dove si riescono diciamo a gestire anche con subterritori 47 musei penso volevo un confronto anche con il professore che diciamo il caso sia questo cioè la sfida è se vogliamo sviluppare nei prossimi dieci anni un'economia creativa di servizi culturali è necessario che si formino e si consolidano queste piattaforme che gestiscono l'outsourcing una domanda che faccio al docente e un confronto anche con i colleghi che mi hanno ascoltato allora aggiungerei poi diciamo questa slide che è impreso centrica un'altra riflessione che noi parliamo di forme distrettuali di reti in un ambiente in cui il sistema normativo interviene per pretendere un comportamento di rete quindi qui sono io impresa che mi sono mosso e ho portato a casa i risultati naturalmente c'è un isomorfismo come si dice con le istituzioni per cui si è sviluppato meglio in Giappone piuttosto che in altri ambienti anche per questioni di sistema istituzionale di riferimento quindi dovremo capire l'ovale dell'impresa leader dove finisce l'impresa leader e dove comincia la governance delle reti diciamo a questa figura gli aggiungerei questo elemento però va già bene parlare di impresa focale mi va già bene per cui se divento un sistema che gestisce sottosistemi non solo quindi l'appalto che è un modo in cui ragiono solo sulla distribuzione l'assegnazione ma anche qual è il ritorno di questo appalto perché io poi dobbiamo avere i sistemi di misura del fatto che sono impresa leader qui lo vedo nel mio consolidato qui dobbiamo trovare qual è il dividendo che portiamo a casa territoriale quindi qui c'è da un po' da ragionare su come il sistema della governance interviene per scambiarsi il dividendo cioè io vedrei addirittura un altro elemento di controllo sopra l'impresa leader che i risultati complessivi di sistema che questo sistema mi dà che io facilito quindi c'è un po' da capire poi vediamo anche un'altra cosa lo vedremo poi nell'altro messaggio in realtà questo modello verticale è un pezzo del modo con cui faccio la rete perché ho anche forme invece di orizzontalità però qui la cosa interessante secondo me sono questi due concetti il sottosistema la modularità e il punto in cui si appoggia la piattaforma questi sicuramente sono elementi che possiamo prendere e riprodurre diciamolo in termini più semplici è più facile che siano i sistemi produttivi finali a costituire una cosa di questo genere che il sistema di governance centrale la fondazione di cui parlavi è diciamo la risposta naturalmente sopra la fondazione qui non c'è al massimo c'è il VTO dice che il commercio mondiale deve essere ma non non va al massimo può esserci anche l'Europa che dice che dobbiamo fare le reti di conoscenza però diciamo nel modello imprenditoriale teoricamente il fastidio normativo non c'è non c'è però ricordiamoci che noi invece il modello della piccola impresa a rete l'abbiamo fatto nel nostro sistema quindi però diciamo dobbiamo muoverci se non rischiamo di fare forme di questo tipo terzo tipo fornitori strategici e fornitori occasionali fornitori occasionali sono quelli che fanno pezzi sono terzisti a loro volta eccetera allora chiudiamo questa partita e poi comincia a introdurre pezzi diciamo di riflessione sull'altra versante se volessimo sintetizzare le caratteristiche di distretto industriale così capiamo come possiamo usare l'accezione di organizzazioni territoriali siano essi sistemi siano essi distretti culturali evoluti allora le caratteristiche sono queste ci sono popolazioni di imprese su un territorio che hanno delle specializzazioni quindi devo avere nel territorio in cui insiste il distretto insieme di imprese se non ho insieme di imprese non siamo nella forma distrettuale se c'è una grande impresa io ho colonizzato il territorio la seconda caratteristica le imprese nei distretti classici sono squadre aperte quindi questi diciamo raggruppamenti non sono fissi possono essere acceduti da altri spesso sul territorio ma non solo sul territorio questo è un altro elemento quindi ci pone un'altra questione il perimetro più che un perimetro fisico è un perimetro di attività esatto esatto questa è la questione terzo elemento fondamentale per fare distretto ci vogliono beni comuni se non ci sono beni comuni non ho interesse a operare con forme distrettuali quali sono i beni comuni ad esempio un mercato del lavoro allora se io ho investito in una certa maniera sulle figure professionali e sono accessibili io me le trovo qui non ne vado a prendere altrove quindi beni comuni vuol dire che ci vuole un sistema pubblico ecco la cosa interessante un sistema pubblico che è coerente col modello distrettuale oppure il modo con cui si regolano le associazioni sul territorio o la presenza di infrastrutture qui faccio l'esempio della depurazione se io ho il cuoio il distretto del cuoio se non c'è un sistema pubblico di depurazione quindi ci vogliono delle combinazioni territoriali molto connotate da qui allora che il territorio sicuramente è un elemento distintivo se lo leggiamo come viene letto nei vostri modelli come non un territorio solo fisico ma un territorio antropico connotato da qualità che lo distinguono da altri e l'ultimo elemento la cosa interessante è che c'è deve essere un equilibrio un bilanciamento fra queste imprese come dice qui di conoscenze di responsabilità e di poteri in modo che i vari raggruppamenti socio-produttivi perché non sono solo raggruppamenti produttivi sono anche raggruppamenti sociali perché usano certe figure c'è un certo tipo di imprenditività c'è un certo tipo di relazione col territorio quindi questa è la lezione la lezione del distretto il distretto ci dice che abbiamo bisogno di beni comuni cioè di economie esterne da cui traiamo vantaggio da cui traiamo vantaggio perché sono caratteristiche connotative del territorio e abbiamo bisogno anche diciamo accanto alle economie esterne strutture di supporto che facilitino la transazione per evitare i costi di transazione perché quando i costi di transazione sono eccessivi ogni impresa come ci dice Williamson cosa fa? cerca di internalizzare il fornitore perché gli costa meno averlo dentro quando l'ha dentro poi gli comincia a costare e allora parte il pendolo questa diciamo è la lezione del distretto quindi se vogliamo usare per i nostri nella metafora dei sistemi ambientali e culturali o dei distretti culturali evoluti le connotazioni territoriali sono sicuramente connotazioni fisiche e antropiche sicuramente sono queste due cose che le caratterizzano e che danno questi doppi vantaggi le economie esterne e la semplicità delle transazioni fra i soggetti quindi ad esempio se il mio sistema regolativo è farraginoso ed è complicato io non facilito la relazione tra imprese o tra soggetti se la mia transazione deve passare attraverso un modo di fare il bando un modo di qualificarsi un modo di essere valuta e così via cioè io territorio io che governo il territorio mi debbo porre la domanda quali economie esterne assicuro quali sistemi di transazione a basso costo metti in piedi tutte le volte che il nostro sistema di governanza è complesso abbiamo ammazzato l'ipotesi distrettuale guardate questo è importantissimo comprese tutte le questioni delle corporazioni e lo diciamo subito è chiaro perché tutti hanno distrettualizzato ma ognuno a modo suo non c'è un distretto che coincida con un altro se lo faccio industriale di un modo se lo faccio culturale di un altro se lo faccio sanitario di un altro allora dov'è? qui nel perimetro non esiste però in quella sovrapposizione di tutti questi oggetti c'è il distretto del distretto o inventiamo n transazioni continue questa è la vera questione cioè avere un governo che affronti lui per primo in maniera integrata il governo e non ottenga l'integrazione di governo dal governato perché diventa a questo punto suicida prego transazione distintiva ben gestita ecco un esempio allora ad esempio abbiamo settori industriali in cui alcune abilità produttive vi faccio un esempio semplice di como come una grande abilità serica storica e quindi capacità di fare gomitoli questo ha indotto negli anni 60 alcune aziende americane a investire nel comasco per fare sistemi di produzione di avvolgimenti di rame l'azienda dove sto andando adesso l'hanno fatta lì perché l'hanno fatto in che cosa sono bravi sono bravi ad aggomitolare si può aggomitolare la seta si può aggomitolare il rame gente con queste capacità tante e questo che cosa ha fatto nascere la disponibilità di una madoropa che non potevi portare da fuori fa nascere a schiera imprese su quel tipo di cose il distretto della coltelleria il distretto del calzaturiero adesso vi farò l'esempio del calzaturiero marchigiano nasce così da maestri artigiani che avevano botteghe cominciano a fare imprese queste imprese gemmano sotto imprese economia distintiva saper lavorare le tomaie eccetera eccetera questa è la parte dell'economia questione dei costi di transazione questo è l'altro elemento anche qui bisogna un po' bilanciarsi una skill diciamo del territorio che lo fa diventare attrattivo per ulteriore lavoro assolutamente e io sto sul territorio perché trovo sul territorio e in più questa risorsa siccome è comune nel momento di scarica nel modello distrittuale classico le persone lavorano altrove se aumentano le commesse le persone si muovono la questione delle transazioni la questione delle transazioni è come invento sistemi un po' più formalizzati nei rapporti con le grandi imprese perché non posso andare a stretta di mano ma a basso costo allora l'associazione probabilmente territoriale mi dà una mano non nel fare l'enorme capitolato di 2000 pagine con le 300 clausole font numero 5 illegibili ma mi fa un sistema di regolazione degli scambi accompagnato anche da un contesto che lo facilita perché se poi attraverso le accise la finanza se poi invento un sistema amministrativo che lo intercetta su altre cose io non sono stato in grado di risolvere allora faccio l'apprendistato come modello di ingresso al lavoro ad esempio il modo di fare la transazione sull'apprendistato se fosse un po' più semplificato rispetto a quello che abbiamo fatto probabilmente produrrebbe molto più apprendistato di quello che non produce ma se ci vuole il quaderno ci vuole il tutor ci vuole il libro delle competenze e quando vai in una piccola impresa dice ma queste cose qui chi le fa allora ad esempio ad esempio le grandi se lo fanno alle piccole lo fornisco come servizio di territorio e invece di fare semplicemente l'incontro domanda offerta nei punti lavoro io dovrei fare anche cose di questa natura questo fa l'incontro domanda offerta quindi non solo l'incontro del curriculum con requisito che è un classico modo di fare la selezione del personale devo fare moduli governare sotto sistemi che rendano facile la transazione e così via discorrendo l'accesso al credito quindi gli ambienti però dobbiamo avere enti che sanno in grado di favorire questa crescita dell'economia esterna e questa convenienza della transazione semplice assolutamente se invece se io devo fare per fare il governo della transazione invento un meccanismo che è più pesante di tutta la transazione sicuramente muore lo vedremo adesso poi vi racconterò un esempio visto il distretto evoluto mi sono messo a livello più basso poi del distretto quando arriviamo sui comuni e quando arriviamo sui comuni il procedimento ricomincia esattamente come era quando mi sono rivolto alla regione a questo punto la domanda è ma io perché devo entrarci lo vedremo poi ho tolto qual è la città però ecco queste sono le lezioni del distretto ma a queste lezioni ecco la cosa interessante quelle esperienze di filiere di vario tipo ne hanno aggiunto altre vi farò vedere quali e poi proviamo a scendere eccolo qua questi sono i miei vantaggi competitivi beni comuni mano d'opera fornitori tecnologie comportamenti comportamenti è questa altra cosa la civiness del territorio è un fattore di economia esterna se noi ogni tre imprese quattro sono finite per malversazione tribunale è difficile che ci sia un'economia esterna fattori sostituzionali forme consortili ma ancora una volta leggere io non debbo mettere enti che si mangiano tre quarti del valore che debbo dare questa è un'altra cosa una regola d'oro perché se no la gente ti chiederà il voucher e ti chiederà di non farlo passare da un altro ente regionale che fa i voucher distribuitelo al sistema delle banche io mi presento allo sportello do la carta d'identità firmo e ho risolto il voucher però qual è la debolezza del voucher il voucher è semplicemente mettere a disposizione un input come tu lavori questo input è lì che si vede la differenza se noi continuiamo a dare solo input quindi risorse esterne non significa dare risorse inerti risorse che quando entrano nelle organizzazioni producano valore producano valore quindi se io ti do qualcosa che da te genera perché se do solo risorse esterne vi racconto un altro meccanismo di risorse esterne che noi usiamo male sono due una è l'uso dello straordinario nelle imprese l'uso straordinario è un esempio classico di inefficienza perché aumento le ore di lavoro per fare più prodotto questa è l'idea ma se il sistema produttivo non produce più prodotto così com'è come vuoi che ne produca di più aggiungendoci più risorse anzi aumentano i costi se io metto più straordinario che è meno produttiva dell'ora ordinaria che è più tassata di quella ordinaria anche la proposta un po' così fuori tema della confindustria riduciamo le vacanze aumenti l'input ma sei in grado di processare queste vacanze che riduci per fare più prodotto perché se no aumenti i costi ed è uno primo elemento l'altro è la cassa integrazione quando io non ho risorse dopo di che metto l'altro modello e quindi drogo il sistema ancora una volta che cos'è attingo a risorse solo per consumare e tamponare non mi genera altro allora questo lo puoi fare per un periodo limitato ed emergenza se diventa sistema il sistema disimpara anzi impara quel modello straordinario da un lato quando io non ho invece di intervenire allora sul processo produttivo in modo che sono in grado flessibile di affrontare la variazione della domanda e quindi non scarico i costi sul sociale e me li prendo in un altro modo capite però è questo tipo di comportamento non opportunistico che dovrebbe però naturalmente come ci insegnano sempre gli studiosi dei costi di transazione l'opportunismo è nei comportamenti quindi basta che uno dei due sia opportunista ecco perché ci sono tante transazioni costose allora devo trovare meccanismi in cui in maniera simmetrica c'è il vantaggio e questo riduce l'opportunismo non dobbiamo fare la predica ecco non si passa dal pulpito per non ottenere l'opportunismo prego c'era una domanda mi sembra che avevo visto no il ciclo di produzione è sub guardate una cosa interessante se faccio distretto e io mi specializzo l'effetto distrettuale duplice che aumenta la mia specializzazione e quindi la mia competenza ma aumentano i volumi perché riesco a lavorare attraverso il distretto volumi che singolarmente non riuscirei a lavorare terza questione l'ambiente sociale mi assicura che quello che faccio verrà rispettato perché c'è un modo di porsi delle istituzioni delle associazioni del territorio e quindi siccome i miei patti sono variabili io non mi rivolgo all'avvocato e l'ultima questione interessante del distretto nei distretti si ottengono quei comportamenti cooperativi sul lavoro che nelle aziende non si riescono a ottenere cioè se io sono appunto del distretto tal dei tali e mi rendo conto che sono legato al mercato della moda che ha una sua stagionalità e variabilità e io introietto questo modello e quindi mi rendo conto del perché ci sono carichi e scarichi allora questa cosa è interessante perché ottiene una motivazione che il semplice sistema di paga usato come sistema unico non riesce a ottenere quindi però diciamo il distretto arriva fin qua chiuso territorialmente il distretto in questo momento sta morendo questa è l'altra lezione ecco per questo parlavo dei perimetri come questione prego qualche caso italiano di distretto che ha formalizzato l'annessione diciamo la partnership di un soggetto importante anche straniero facciamo un esempio non so scarpe il fornitore tedesco magari innestato nel distretto un parallelo potrebbe essere sono sempre all'incontrario di fornitore di clienti che hanno chiesto ai nostri di rapportarsi così clienti perché facevo un parallelo diciamo un sistema territoriale che chiede a una realtà museale quella che sia culturale esterna al territorio di avere un interesse diciamo di diventare una sorta di stakeholder come se fosse un catalizzatore di cambiamento di quel territorio vado all'Uvro e dico ti spendi un po' per darci una mano da queste parti e come si può questa cosa diciamo poi vediamo nella mappa generale l'evoluzione quindi il distretto chiuso non ce la fa deve necessariamente aprirsi quindi questo è il primo problema allora ci sono dobbiamo vedere diciamo gli ambiti di intervento c'è la parte circoscritta che è caratterizzata da queste cose ma io oggi se voglio competere prima competevo con l'impresa fordista e ce l'ho fatta perché ho inventato col mio sciame perché questo è il modello diciamo ci adattiamo fra di noi ad essere potenti come un'aquila adesso quelli si sono spostati hanno imparato dai distretti si sono fatte le filiere allora a questo punto devo fare un analogo devo fare il secondo passaggio come mi apro all'esterno perché se voglio andare fuori io per non voglio devo andare fuori partiamo da queste cose non voglio devo andare fuori non posso andare fuori come abbiamo fatto spesso accompagnando regione per regione visitatori vari in giro eh devo fornirmi come una squadra che è in grado di soddisfare dei bisogni o di trovare punti di relazione di integrazione l'esempio del museo evidente ma anche l'esempio logistico devo aprire mercati devo commercializzare devo mettere a punto la mia catena logistica perché per poter fare questi prodotti mi devo approvvigionare se ognuno si approvvigiona per i fatti suoi oggi è finito allora devo per forza assolutamente sicuramente ce ne è due sicuramente ce ne è due la catena logistica la catena di commercializzazione sicuramente questi sono i due punti di eccellenza di fatti vi faccio un parallelo su invece grandi imprese che si sono sviluppate così te ne accennavo ieri sera se noi studiamo Luxottica che è ormai una delle poche grandi imprese diciamo di dimensione multinazionale che abbiamo e studiamo il successo imprenditoriale da quali scelte gestionali ha accompagnato Luxottica è garantizzato da due grandi scelte la prima l'integrazione del ciclo produttivo Luxottica non ha fatto esternalizzazione ha fatto localizzazione poi vedremo come ma ha mantenuto la proprietà della filiera prima scelta in controtendenza con tutte le teorie manageriali degli anni 80 e 90 sono contento perché qualcuno di noi qualche schiaffo l'ha preso la seconda scelta strategica è stata la proprietà della catena distributiva e commerciale cioè non affidarsi ad altri ma avere lei la logistica e i punti vendita oltre l'approvvigionamento del singolo punto cioè dell'occhialaio quindi proprietario di due cose importanti il processo produttivo il mercato e quando ha comprato marchi non ha comprato solo il marchio si è comprato dietro tutto quello che c'era nel marchio e lo ha riorganizzato sul modello luxottico la stessa cosa oggi i nostri distretti sono asfittici quando non affrontano questi due problemi la logistica quindi i flussi di merci e di semi lavorati di materie prime e i flussi di uscita allora non il portale per andare in concreto non il portale il portale è un'app fine dietro il portale è come lo sportello unico non c'è niente è la filiera di commercializzazione che è un'altra questione allora non finanzio semplicemente quelli che fanno l'internazionalizzazione anche questo l'abbiamo visto il modello Lombardia soldi a pioggia tutti quelli finanzi l'internazionalizzazione di distretto allora ha senso perché sei in grado di offrire un volume che è appetibile per qualcun altro se non sei una grande impresa cosa vai a vendere se vendi ore appunto il Vietnam è più conveniente non puoi essere terzista queste diciamo allora sono le cose interessanti il distretto è arrivato fin qua il tradizionale adesso sono quasi tutti in sofferenza tranne quelli che stanno cominciando a lavorare su questo o altre filiere di imprese che sono nati al di là dei distretti gli agglomerati ce ne sono diverse diverse realtà in Italia che hanno messo in piedi sfruttato uno strumento normativo nuovo che è l'accordo di rete il contratto di rete che è un contratto molto semplice in cui però sta succedendo esattamente questa cosa viene costruita una filiera produttiva persino il report ne ha fatto un esempio qualche qualche mese fa di una di queste degli emiliani che non so se con un accordo di rete non c'è quindi fatti quindi anche dal punto di vista giuridico molto semplice ci vuole naturalmente un leader ci vuole un leader che poi è partito dall'integrazione delle filiere produttive alla semplificazione dei processi di supporto e l'ottimizzazione dei processi amministrativi esatto assolutamente e vedi come arrivi alle cane chiudiamo questa partita e poi introduco la parte culturale ecco questo è il modello distrettuale ad esempio marchigiano nasce come piccole come botteghe poi piccole imprese poi le imprese diventano grandi poi siccome sono nel mercato della moda sono soggetti alla varietà di gamma e alla tempestività della fornitura le stagioni eccetera le imprese non ce la fanno cominciano a esternalizzare le imprese capofila vedete punto di forza commerciale dominio dell'assemblaggio e governo dei fornitori il modello funziona in questa maniera ci sono gli approvvigionamenti che vanno al centro dell'impresa che fa il modello l'esternalizzazione del taglio e della cucitura l'assemblaggio finale e poi tutto il passaggio quindi l'impresa leader che cosa ha in mano ha in mano il rapporto col mercato e il rapporto con il modello la modellizzazione del prodotto questo qui questi sono i numeri questi sono ancora vecchi perché non hanno più fatto diciamo la cosa interessante è che molte di queste filiere diciamo si modificano ma rimane sempre questo modello il grande in mano il marchio l'assemblaggio e la commercializzazione il piccolo ha la filiera diciamo sotto allora io devo costruire scoprire non dire qual è la filiera a metafora qual è la filiera produttiva cioè quando io immagino un sistema rete devo capire dove sono i punti di scambio che io debbo ottenere dalla presenza della rete se il modello è invece a sciame cioè tanti piccoli che si muovono per mutuo adattamento siamo davanti a una rete naturale ma non siamo davanti a questi modelli e questi modelli sono deboli non ce la fanno più allora dobbiamo fare il salto da questo modello che spesso diciamo immaginiamo mettiamo insieme tanti visto ma non so come stanno andando credo che non solo in Puglio ma anche in altre regioni abbiano fatto questi distretti per esempio in qui c'è il distretto dell'energia sì perché poi sono diciamo normativamente c'è un distretto anche delle imprese culturali e creative cosa stiano facendo come stiano operando onestamente non lo so però appunto immagino che anche queste realtà fra virgolette come dire amministrative generate dalla regione in un qualche modo soggiacciono a queste logiche assolutamente cioè devi andare oltre l'etichetta cioè perché l'uso della metafora è bello è creativo però è anche ti porta a cattive compagnie cioè non usiamola bene se è distretto il distretto deve avere quelle caratteristiche dobbiamo fare in modo che ci siano se non è un agglomerato di soggetti che vengono identificati in questa maniera destinatari di risorse fine sperando ecco il modello sbagliato che l'input moltiplichi l'output per moltiplicare l'output deve avere un processo idoneo se non hai un processo idoneo l'input viene mangiato dal processo fine questo è lo schema e guarda ormai per me sono un po' anziano quindi sclerotico tutte le volte che si parla di costi il problema è solo questo i nostri processi sono in grado di produrre di più e allora forse ce la facciamo non sono in grado è inutile che pompiacche lo droghiamo perché collassa non ce la fa allora la costruzione della rete allora qui la costruzione è stata storica in alcuni casi si è costruita nel tempo alcune adesso stanno nascendo intenzionalmente quelle filiere bisogna costruire intenzionalmente la rete e quindi bisogna investire nella costruzione quindi non solo dire che farò queste cose come regolatore dire che nel tuo progetto non solo il progetto ma la costruzione della rete è un elemento qualificante esatto la progettazione non del consiglio di amministrazione cioè non dei punti non quelli io non vi parlerò diciamo di forme normative vi parlo solo di forme operative processi operativi grazie ecco dal distretto possiamo capire il funzionamento a sciame com'è invece di esserci quel modello a comando che abbiamo visto nella grande filiera produttiva noi abbiamo diversi modi con cui le reti funzionano queste sono due classiche una in cui i capofila cambiano a secondo delle lavorazioni c'è qualcuno che guida e altri che sono sul fornitore questo è il primo modello no? ad esempio la parte del casalingo l'arredo eccetera molte di queste caratteristiche no? quindi prodotto finale si suppartano anche produzioni complete quindi io vado tranquillo che Louis Vuitton è presidiato io non ce la faccio il mio laboratorio a fianco lo fa siccome la collezione è fra due mesi e ci hanno chiesto 300 capi e 300 capi in 30 giorni non si fanno questo è un modello poi c'è il secondo modello invece in cui soggetti diversi si avvalgono degli stessi sub fornitori loro hanno in mano un marchio e si rivolgono e quindi non c'è competizione fra i soggetti nell'avvalersi dei sub fornitori perché i sub fornitori sono per loro economia esterna questa è già più interessante nei nostri modelli sarebbe interessante capire laddove posso muovermi con modelli in cui la diciamo il capofila può variare oppure con modelli in cui c'è una rete di connessione di cui io mi avvalgo vi farò vedere poi un'applicazione strutturata non spontanea di questi modelli su un'ipotesi di diciamo chiamiamola di integrazione fra comuni comuni è una cosa su cui sto lavorando in questo periodo e anche lì si parla dello sportello siccome lo sportello è su una piattaforma comune nascono delle opportunità come appunto parlavamo di Musinet nascono perché però bisogna a questo punto sfruttare perché sennò quella piattaforma tecnologica la usi al minimo la usi all'1% rispetto al 90% al 10% è un po' come il computer di cui sfruttiamo 7-8% di quello che c'è dentro allora questa è l'altra cosa interessante aziende che possono essere di volta in volta capofila o aziende che sono comunque capofile che si avvalgono di subfornitori comuni questo è possibile perché nell'ambiente territoriale di riferimento ci sono queste capacità disponibili quindi la filiera in questo senso orizzontale ci dà un'altra modellistica rispetto alla filiera verticale che abbiamo visto dalla grande impresa quindi noi potremmo anche combinare alcune modalità verticali con alcune modalità orizzontali si tratta naturalmente di studiare i singoli casi e vedere come proteggiarlo allora chiudo sulla parte generale poi torneremo facciamo una cosa chiudo con questa e poi anzi prima chiudo con la mappa allora a questo punto questo tipo di modello l'ha elaborato Luciano Pero mio amico che hanno scritto un testo proprio sulle imprese in cui ha provato a rappresentare nel tempo come si sono modificati i sistemi produttivi e come si sono modificati i sistemi di coordinamento ricordiamoci che rispondiamo sempre alla stessa domanda come specializzo il lavoro il sistema di produzione come lo coordino allora i modi di coordinamento facendo riferimento sempre al tema dei costi di transazione sono tre quelli di cui abbiamo visto adesso uno che chiamiamo di mercato il coordinamento di mercato qual è? io ho bisogno di una cosa e una utility diffusa la compro quindi mi servono delle cose le compro e quindi il sistema di coordinamento è dettato dal prezzo io non faccio una cosa la compro perché è già fatta sistema più semplice poi c'è l'altro modello che dicevamo però il mercato si pone il problema della transazione se devo comprare se il prezzo è giusto come mi salvaguarda poi c'è l'altro modello che è la gerarchia io prendo il suo fornitore e lo internalizzo perché così attraverso il mio comando lo coordino e poi c'è questa forma intermedia della rete allora Williamson la rete non l'aveva messa diciamo come elemento distintivo lo troveremo poi in Gereffi diciamo quest'altro studioso del valore globale la rete invece è un sistema come quelli che abbiamo visto in cui la transazione è regolata in maniera semplice ci sono dei vantaggi di economia esterna dal fatto di essere rete quindi ci sono tre modelli di coordinamento i sistemi produttivi si sono evoluti in verticale quindi dal modello fordista alla flessibilità produttiva alla concentrazione sull'uolo alle catene globali quelle di cui abbiamo parlato e questo mi permette di capire a questo punto dove posso posizionare diciamo il mio sistema di coordinamento quindi la piccola impresa il pre fordista all'inizio poi nascono le filiere razionali e i cluster di impresa per andare per quelle globali aperte quando usano il mercato come sistema di coordinamento diventano multinazionali globali quando usano la gerarchia sono distretti estesi eccolo qua il nuovo concetto o distretti come evoluzione dei distretti industriali proprio perché debbono riuscire a fare catene del valore globale attraverso la rete questa dovrebbe essere diciamo la prospettiva in questa storia così chiudiamo la sua osservazione vediamo come abbiamo giocato la partita dell'esternalizzazione e ne vediamo due modelli eccole qua allora questo è il modello cosiddetto a piattaforma era un po' quello che lei raccontava prima strutturato l'esempio è fatto sull'automotive come ad esempio funziona la piattaforma Volkswagen come ha esternalizzato e delocalizzato la cosa interessante è che diciamo c'è una distinzione vedete una specializzazione territoriale della produzione non è semplicemente vado dove mi costa meno vado dove la specializzazione e il costo la combinazione è conveniente nel mio sistema globale non a pezzettino allora l'alta gamma è il governo 1 della catena logistica e nei paesi industriali nei paesi di sviluppo c'è la bassa gamma con componenti critici e la produzione finale e marchi minori possono essere sul territorio locale perché mi sviluppano piattaforme naturalmente queste relazioni sono governate esatto se tu pensi come loro si sono mossi sul mercato orientale anche verso l'Italia hanno fatto la stessa cosa noi ci hanno messo un po' più fra i due fra le componenti della tecnologia e componenti critici ma è un sistema strutturato o a piattaforma che ti assicura che cosa la forte specializzazione è il costo competitivo ma è il forte coordinamento di questo oggetto noi invece abbiamo usato un modello che è o la clonazione abbiamo preso la fabbrica madre l'abbiamo portata all'estero e abbiamo riprodotto la fabbrica madre all'estero capisce? la grande creatività capite? e sei diventato ancora una volta e rimani sempre un terzista lì perché non è che stai portando grande innovazione questa è interessante questa cosa oppure hai fatto quello che si chiama l'arrocco cioè hai un po' distribuito un pezzettino del ciclo ma con un andy rivieni fra la madre vedete quell'altro modello come invece è globale sui mercati paesi industrializzati è un altro modo non è dov'è è la Slovenia poi la Slovenia va in crisi l'Albania poi l'Albania va in crisi la Romania poi la Romania va in crisi non puoi andare da nessuna parte non fai sistema cioè fai la classica mossa di uno che non sa fare lo scacchista che quindi non è strategico e finisce per bloccarsi ecco da qui l'idea allora questo diciamo allora mi fermo qui su questo scenario di carattere generale poi nel pomeriggio alla fine vi farò vedere gli elementi di progettazione perché per ora vi ho dato uno scenario poi vi dirò alcuni elementi che noi poi possiamo utilizzare in sistema di progettazione e volevo introdurre a questo punto l'applicazione di esempi distrettuali di rete nei contesti di cui diciamo voi siete esponenti ci sono domande su questa prima parte? prego io volevo volevo chiedere non conosco bene tutta la storia dei distretti o comunque delle reti e mi interessava capire un punto di vista quali sono le ricadute sociali della creazione dei distretti cioè se magari la creazione dei distretti determina che ne so una differenziazione anche del saper fare quindi una perita un impoverimento un appiattimento un'omologazione delle produzioni quindi come vengono visti poi da chi li vive poi i distretti effettivamente cosa io conosco un solo caso non benissimo che è il caso del distretto del divano del salotto insomma quindi tra la barese dove l'istretto non ha funzionato evidentemente perché poi la maggior parte delle piccole aziende hanno chiuso e oltre a questo c'è stato in aggiunta c'è stato anche la perdita della capacità di fare i divani da parte degli artigiani locali quindi c'è stato un disastro totale quindi mi interessava capire l'impatto sociale naturalmente qui scontiamo anche la competizione con Ikea quindi non dovremmo dimenticarci di questa capacità di innovazione che ha avuto nel fare il mobile che diciamo ci aveva fatto distintivi sul design quando ci siamo essi a competere sul prezzo ci hanno massacrato non solo qui ma stavo pensando anche nel pesarese sta succedendo quindi in genere tutta la questione del mobile se non si era legato alle catene ecco torniamo all'esempio di prima delle grandi distribuzioni che ti assicuravano gli sbocchi di mercato la semplice distrettualizzazione l'essere su un territorio non ti dà condizioni di sopravvivenza questa quindi la questione fondamentale allora però per dare fuori devi sviluppare competenze su questa parte qua e devi preservare le competenze distintive tu e non continuare a ripetere la modellistica allora noi che eravamo la patria del design e che diciamo gli svedesi per noi erano uno degli esempi di possibili design ci siamo fatti fregare da un modello di produzione e consumo in cui lui ha fatto della rete dei consumatori la rete dei maker i produttori del mobile nel modello Ikea sono gli utenti questo è interessante lui è riuscito a inventare una rete in cui ha esternalizzato l'assemblaggio è un'idea geniale diciamo assemblare l'assemblaggio e fra l'altro proprio con un modello industriale tant'è vero che sono a prova di stupido l'assemblaggio dei modelli in questa maniera che diciamo ci sono diverse diverse varianti diverse varianti però diciamo il modello è interessante e fra l'altro può essere tutto un modello gestionale però diciamo è un modello in cui la rete non solo è il punto vendita è il punto di produzione del semilavorato ma la rete è il cliente e poi il cliente lo ha canalizzato quello che se lo assembla quello che lo vuole assemblato è che ha inventato tutte e due le cose la scelta eccetera tu puoi assemblarlo e la terza volta che rompi il buco eccetera fai la sfasatura nella vita eccetera dalla prossima volta lo faccio tanto se faccio la competizione sul prezzo mi ha assicurato la garanzia certamente no vabbè era una solamente va l'IKEA perché ha un prezzo economico e ha questa doppia possibilità e poi diciamo il designer italiano di alto livello perché e quindi hai fatto le due fasce di mercato esatto e che cosa hai pagato tu nel fatto che nel tuo modello di relazione non hai innovato il tuo modello organizzativo questa situazione dei divani diciamo era intermedia e siccome diciamo la situazione intermedia in questo periodo si è disgregata se vai solo però a competere sul costo sei finito infatti allora devi trovare la soluzione produttiva ottimizzata di distretto che ti permette di fare il punto di differenza cioè noi stiamo perdendo per scarsità di innovazione organizzativa fine infatti l'organizzazione parte proprio già dalla diffusione perché la rivista Ikea è la rivista in assoluto più diffusa al mondo tutti aspettano che gli arrivi il catalogo Ikea è diventato un bisogno e quando lo lasciano in portineria c'è la corsa ad accaparrarselo perché qualcuno se ne prende due lo dà anche alla figlia perché non so non gli arriva allora modello di innovazione quindi la questione organizzativa è centrale allora il modello naturale tradizionale non può più reggere di fronte a una competizione globale in cui l'investimento in innovazione è formidabile noi in innovazione non abbiamo investito pressoché nulla o abbiamo investito con modelli schizofrenici grandi tecnologie non coordinate tecnologie contraddittorie vi faccio qualche esempio tutti hanno fatto la cosiddetta lean production quindi produzione snella che dovrebbe funzionare come si dice just in time il cliente ha bisogno di una cosa l'ordine in tre giorni è lavorato la maggior parte delle fabbrichette del Veneto hanno fatto i magazzini finali automatizzati la domanda è se è just in time a che ti serve il magazzino finale ah perché così custodisco il prodotto allora non sei just in time perché hai fatto l'investimento lean production in fabbrica questo è un esempio con l'idea che con la tecnologia risolvevano i problemi che erano problemi di persone non di tecnologia adesso ci penso io è questo il modello gli metto un sistema che non è vero la tecnologia è un abilitante stop a parità di tecnologie ci sono aziende che vanno meglio e aziende che vanno peggio la variabile non è tecnologica la variabile è l'innovazione organizzativa e gestionale la stessa cosa nel modello allora se faccio Musinet quale sistema organizzativo abilita e quanto di questo sistema organizzativo vive o quanto del vecchio vive su quella piattaforma e quindi la usa come una volta gli immigrati usavano la vasca da bagno per pentarci il basilico questa è la questione ecco perché è importante la progettazione del sistema organizzativo e siccome adesso deve essere intenzionale e non spontaneo la progettazione è un atto di produzione culturale non è un modulo non c'è il foglietto standard con cui progetti la progettazione io lo dico sempre ci vogliono due cose matita tre cose gomma e foglio bianco no ma ci sono i tools fanno i processi prima cosa a mano matita cancelli una pagina sola poi prendiamo i tools tutti si infilano nei tools fanno flussi contro flussi alla fine le specifiche microsoft le ho rispettate ma devi fare funzionare un'organizzazione e lo sto sempre più vedendo nelle organizzazioni se non c'è una componente delle risorse coerente con questi processi organizzativi i processi organizzativi non generano risultati no volevo fare una riflessione vabbè il discorso del caso Ikea è emblematico però abbiamo anche un target particolare insomma che bisogna anche tenere in considerazione altrimenti noi ragioniamo solo su un target medio basso allora tutta l'industria poi artigiana italiana che era famosa proprio per il pregio la qualità va a morire insomma ma secondo me c'è un discorso anche di cultura di impresa cioè è vero l'organizzazione è tutto strutturale anche in una maniera precisa però appunto secondo me un aspetto molto critico è proprio di avere anche una cultura di impresa condivisa all'interno dell'organizzazione perché io dico sempre cioè possiamo creare una bella organizzazione ma se la mission individuale del lavoratore del collaboratore non è in linea con quella dell'organizzazione il matrimonio avrà vita breve e secondo me anche un discorso relativo agli distretti culturali è anche questo cioè possiamo anche creare una grande organizzazione disegnata progettata bene però poi dobbiamo condividere anche una mission e una vision di base perché altrimenti prima o poi questo processo comunque si interromperà aggiungo quindi un pezzo alla mia considerazione io quando parlo di progettazione organizzativa parlo di organizzazione in funzione non di disegno il mio modello pensa cioè io penso una cosa di questa natura non dobbiamo disegnarla dobbiamo renderla operativa e quindi dobbiamo immettere nella riorganizzazione anche il change come elemento fondamentale della riorganizzazione cioè se il cambiamento non avviene nel sistema in cui opero anche se gli metto un vestito nuovo sempre male gli sta allora questo cosa vuol dire che il modello della condivisione parte dalla progettazione non è successivo questa è la vera questione cioè io devo tirar dentro nel mio sistema ecco perché mi sono fermato al meso e non voglio arrivare al micro nel senso che non vado a disegnare i ruoli ma il disegno del meso è un disegno condiviso e che parte da subito nell'analisi delle criticità condivise perché quello fa il cambiamento non nel dire c'è questo modello prendi e usalo non funziona dopodiché significa che quando fai il change poi scendi in officina cioè io con i consigli di amministrazione ho pochi rapporti gli rapporti giù e poi vai giù e vai a vedere il sistema operativo come funziona e coinvolgi le persone sul funzionamento del sistema operativo e non è una scelta di ideologia partecipativa è un requisito dei funzionamenti dei sistemi produttivi moderni è un requisito senza quindi non è un buonismo la fine del conflitto capitale lavoro non c'entra niente per poter far produrre meglio i sistemi nuovi ci vuole un diverso modo di concepire il lavoro a partire da chi lavora e le difficoltà più grosse ce le ho non negli operatori io ce le ho nelle parti sociali imprese e sindacale che continuano a giocare la partita sembrano quelli del deserto dei tartari stanno aspettando che arrivi l'invasione lì è il punto più difficile con le RSU ti trovi in tre secondi e vedono più cose loro del direttore di produzione perché stanno giù e le vedono ma non è che sono scemi cioè non è che essendo andato lì il mansionario mi dice a vita 30 volte hai messo l'intelligenza da parte tutte le stupidaggini le vedi allora devi sapere governare questi processi ma è un'altra cosa senza partecipazione di chi lavora oggi sul lavoro il lavoro non è produttivo io ho proprio esempi specifici di ambienti in cui a parità di tutti i fattori al contorno la differenza la fa il comportamento di gruppo individuale delle persone sul lavoro ma a differenza di 10 punti allora se vuoi far crescere la produttività devi trovare un sistema che è in grado di fare queste cose non aumentare l'input ma usare l'input che hai per produrre di più bestimo che vi è dicendo ormai non ha non ha fatto presa cioè anche il livello di conflitto noi abbiamo avuto un conflitto troppo lungo troppo lungo storico che solo adesso fra l'altro noto una cosa l'altro ieri hanno deciso che la partecipazione la rappresentanza viene riconosciuta noi fino a questo momento siamo andati avanti per rapporti di forza mi riconosci perché sono forte ti riconosco perché anzi si era evitato di mettere nello statuto dei lavoratori il ruolo della rappresentanza si diceva che deve essere rappresentanti ma che fossero figure che poi avessero un livello di cogestione questo non l'abbiamo mai voluto formalizzare prima il sindacato perché si sentiva molto forte e bastava la sua forza per essere rappresentante poi l'impresa quando ha visto che il sindacato era debole a questo punto perché devo darti il riconoscimento adesso che stiamo affondando forse ci siamo resi conto che non ci conviene più questa famosa piattaforma qua se voi andate a leggere i contratti del 97 queste cose qui in Germania le fanno da 20 anni contratti non sto parlando di reggi della bassa della Renania della Sassonia contratti tu leggi il contratto in cui dicono per darvi un esempio l'impresa vuole flessibilità margini tempestività riduzione dei costi il lavoratore vuole professionalità riconoscimento tempo eccetera per fare questo allora decidiamo di fare questa organizzazione ad esempio fanno delle organizzazioni in cui non c'è il mansionario delle persone c'è il mansionario del gruppo e le persone debbano essere in grado di interpretare i ruoli dentro il gruppo e quindi debbano avere le competenze per farlo e quindi questo fa la polivalenza delle persone questa fa l'intercambiabilità questa fa la flessibilità il gruppo decide che se tu devi curare il bambino perché domani perché ha preso l'influenza tu prendi il giorno perché l'ha deciso il gruppo non lo decide l'amministrazione di fabbrica questi sono i modelli di cui vi sto parlando e questo fa il gap di produttività fra noi e loro e lo vedi nel modello architettura della piattaforma modello individuale della semplice furbizia del singolo cultura di impresa rischio modello del rischio inesistente perché poi questa è l'altra cosa è isomorfismo con le istituzioni pubbliche modello della provvidenza ci sono soldi io ci sono non ci sono soldi oddio a questo punto se il modello è quello le coalizioni diventano adesso togliamoci da questo trip diciamo facciamo il salto prima di andare di chiudere sulla questione diciamo distrettuale in ambiente culturale che è quello diciamo che vi rappresenta io mi sono studiato lì il modello marche bene mi sono letto appunto il vostro questi materiali naturalmente ve li lascio tutti poi sono tanti ma allora delle marche vi racconto due fasi la primo studio sistematico di un distretto fatto nel in Ascoli curato dal consorzio universitario quindi l'attore che studia la modalità distrettuale che la regione vuole diciamo implementare parte dal diciamo dalla forza delle competenze universitarie che fanno uno studio di come impostare quindi come si fa a impostare il distretto quindi è la prima fase e vedremo alcune cose interessanti che ci possono servire e che credo vi possano aiutare anche sulla parte di impostazione poi vi racconto invece cosa sta succedendo adesso che sono partiti i bandi per sviluppare i distretti territoriali non abbiamo ancora realizzazioni forti da poter raccontare quindi abbiamo tutta un'attività che riguarda l'architettura del distretto fino alla disciplina dell'avvio siamo allo start up quindi non abbiamo ci sono altri distretti sul territorio ce n'è in diversi punti ce n'è in Lombardia so che altri stanno lavorando tutti comunque partono con un modello di questo genere con una fattibilità dello studio sul distretto questo infatti l'ho preso dal diciamo da questo studio di fattibilità dell'istretto scolano e vediamo le cose interessanti che dice la prima cosa che sostiene questo studio è che vogliono applicare l'idea di distretto non più alla semplice filiera dei beni diciamo specialistici che abbiamo visto raccontato fino adesso ma applicarlo a più filiere quindi questa è la prima differenza forte quindi come riuscire a fare un modello che incentivi forme di filiera molteplici e non specialistici e unici tenuto conto che diciamo ci sono prego sullo stesso territorio sullo stesso territorio e su quella provincia l'hanno studiato assolutamente quindi non è inter settoriale inter territoriale è territoriale il territorio è sempre l'elemento diciamo distintivo il distretto multifiliera ma all'interno di un territorio ok naturalmente questo pone dei problemi perché poi alcune filiere subito sforano altrove quindi ripeto il territorio è una condizione necessaria ma non sufficiente ecco io lo userei così e soprattutto diciamo per rendere il modello delle filiere da distretto come abbiamo visto prima reti più orizzontali più diffuse sul territorio stesso c'è un'idea diciamo che a questo punto si possono fare forme di partnership nuove e che ci sono più operatori che appartengono a filiere diverse in questo senso si occupa di parlare del distretto un'istituzione che non è una parte in gioco questa è la cosa interessante di questo approccio cioè io che sono la provincia la regione il comune l'università che ragiona per conto della provincia prova a vedere se c'è una modalità per intervenire ottenere una interazione forte delle diverse filiere che ci sono questa è l'idea qual è il lievito di questo oggetto il lievito dovrebbe essere la questione culturale cultura in senso esteso come dicitura perché diciamo essendo la cultura la cosa importante per ottenere distretti di questo genere è agire su due cose diffondere questi nuovi comportamenti sul sistema e non semplicemente sulla filiera e creare ambienti a forte apprendimento e a scambio questi sono i presupposti dopodiché dicono le teorie che ci stanno dietro loro ne mettono insieme tre è quella della trazione delle risorse quella della creazione di competenze e quella della riconversione quindi mettono insieme approcci differenziati quindi già l'attacco ci dice che stiamo parlando di una operazione di natura di governance prima che produttiva che vuole creare le condizioni per favorire lo sviluppo di forme distrettuali e vuole sviluppare queste forme distrettuali attorno ad alcuni assi questa è la differenza quindi rispetto a quello che abbiamo visto prima in cui c'è un'intenzionalità produttiva specifica che spinge alla convergenza qui c'è invece una economia esterna che viene assicurata dal sistema di governance che mette a disposizione una risorsa intellettuale di competenza di progettazione adesso lo sviluppo del tema è il seguente la struttura abilitata ecco qui subito scelgono la forma la struttura abilitata è questo consorzio che è già da subito caratterizzato come associazione di stakeholder differenti che possono intervenire sul sistema complessivo quindi l'amministrazione locale con dei ruoli specifici vedete individua i ruoli l'amministrazione che cosa fa dà sostanzialmente beni e poi crea le condizioni politiche al contorno quindi interviene sul contesto ed è fornitore di beni le associazioni dovrebbero conferire know-how altre istituzioni con ruoli diciamo di governo dovrebbero contribuire con le risorse finanziarie quindi diciamo i ruoli sono ben distinti il punto diciamo di conferimento di know-how è fatto da tutti i soggetti e tutte le associazioni che fanno questi mestieri quindi in funzione dell'appartenenza istituzionale nel consorzio giochiamo questi ruoli ancora non c'è in questa fase siamo sempre nella parte associativa sopra di rappresentanza diciamo gli esponenti diretti non li abbiamo in questa fase questa è la diciamo la loro dichiarazione di partenza e questo è l'indice dello studio di fattibilità come hanno ragionato allora hanno fatto per prima cosa un'analisi e una mappatura compresa la sosta analisi di tutto quello che è le risorse territoriali di questa natura che ci sono nei diversi ambienti quindi una grande mappatura delle aree fino a individuare chi potevano essere i soggetti potenzialmente quindi qui c'è un grande studio queste sono circa 70 pagine di studio approfondito dalle politiche culturali alle strutture emozionali allo spettacolo agli eventi fino ad esplorare la parte industriale perché parte dalla cultura e arriva diciamo all'industria dopodiché l'ho sintetizzato fanno una studio di casi internazionali hanno studiato tante esperienze territoriali distrettualizzate che hanno generato sistemi integrati di cultura e produzione diciamo a questo punto fanno la parte diciamo dell'analisi del territorio puntuale anche qui l'ho sintetizzata ci sono una serie di caratteristiche del territorio e su questa base quindi classico modello analisi interna analisi esterna forze e debolezze individuazione dell'elaborazione delle strategie quella di cui vi parlerò oggi è proprio la strategia e la strategia arriva fino a individuare le strutture organizzative e i grandi progetti arriva ai finanziamenti eccetera eccetera quindi è ancora diciamo un'impostazione alta allora tre passaggi il primo passaggio dopo il scontato cos'è il territorio non lo trascuriamo non ci interessa lo studio dei casi gli permette di individuare alcune politiche pubbliche caratteristiche di quegli ambienti cioè sono andati a vedere dall'America all'Australia all'Inghilterra alla Norvegia è interessante da leggere che c'è tutta questa casistica molto ricca e hanno estrapolato dodici politiche che hanno si possono raggruppare così politiche relative alla qualità dell'offerta della generazione di conoscenza della governance politiche sullo sviluppo di talenti e di imprenditorialità politiche di attrazione sviluppo della socialità quindi la capacitazione criticità e la partecipazione e il networking queste sono le grandi quindi nei casi hanno estrapolato queste sono le politiche che cosa hanno fatto attraverso questa clusterizzazione in temi comuni hanno detto che i sistemi su cui intervenire sono appunto la qualità lo sviluppo la trazione della società e il networking dentro questi sottosistemi fanno tutti i processi di produzione differenti nel prodotto ma simili nella modalità perché producono informazioni e conoscenze producono interazione producono interità e diciamo identità e appartenenza incrociando i sottosistemi con i processi individuano quelle che sono le aree su cui bisogna intervenire quindi hanno ripreso le qualità la qualità di che cosa le imprese i processi di produzione e quindi dici il mio sistema ha questa caratteristica quindi in realtà che cos'è questo primo studio è un classico esempio di programmazione integrata orientata dal driver culturale a fronte del fatto che le programmazioni regionali sono come dicevamo in apertura stamattina verticali quindi il grande contributo concettuale è che è possibile fare integrazione delle politiche in modo che combinando le politiche la generazione dei risultati sia molto più ampia della semplice canalizzazione naturalmente si porta dietro tutta questa cosa che è il silos dipartimentale è forte perché è anche proprietario e lo legge come risorsa sua eh io ho il capitolo di bilancio tu non ce l'hai per cui siccome faccio cultura e mi serve un computer io compro i computer che voglio anche se faccio il sistema informativo della regione perché ho preso apple e noi abbiamo invece windows giusto per dire una banale ma quello tanto fa parte degli strumenti per la comunicazione fantastico c'è da dire che i beneficiari finali nella condizione di scarsità delle risorse sono otto con spingi ad avere i comportamenti quindi opportunistici per dover il capitolo siccome il capitolo è così e dice questo e io devo comprare un proiettore un proiettore fra le risorse inevitabili anche se non proietterò mai e anche soprattutto se spascerò il sistema pensate tutto il tema dell'interoperabilità delle nostre tecnologie in ambiente pubblico come lo abbiamo massacrato con questo modello perché non è solo qui ma lo troviamo anche in alto questo modello perché la stessa autorità per l'informatica era canalizzata e naturalmente la mano destra non sapeva cosa faceva la mano sinistra poi se lo mettevi nel ministero dell'interno funzionava in un modo se andavi in quello e così via e per riuscire a fare ancora l'anagrafe italiana unica dovranno ancora mettere insieme cinque ministeri per dire che c'è un'unica anagrafe questa fa parte della nostra follia municipale diciamo allora questo è interessante diciamo questo modo di ragionare però supplisce a un gap che è il gap del governo regionale di un avere una vision integrata di intervento quindi la cultura da questo punto di vista diciamo è un enorme un forte provocatore di integrazione ma a condizione che venga giocata così perché se è dell'assessorato della cultura è l'interesse di tutti gli altri assessorati sarà di non starci diciamo che i tentativi che si fanno e anche da noi di progettazione integrata ci sono tentativi sono delle esperienze no ma molto ricche tra l'altro probabilmente il salto di qualità nei prossimi anni prossimo la nuova programmazione comunitaria avverrà diciamo se si passa a una logica plurifondo per cui questo è così la nuova programmazione è così dipende se noi saremo al solito così furbi da farci del male da soli e trovare il trucco un'esperienza analoga adesso magari la posso intervenire qua se invece di usare un driver caratterizzato come questo che ti spinge a dire ma è sotto matrice culturale che io vedo le cose tu interpreti le politiche della a questo limite della allora io sto facendo un'altra esperienza la introduco già adesso con un'altra regione sull'agenda digitale ennesimo contenitore naturalmente il digitale trasversale solo che invece di dire i sistemi informativi comandano abbiamo deciso di agire in un'altra maniera quali sono le grandi politiche regionali che la giunta si è data e abbiamo individuato tre cluster che abbiamo condiviso naturalmente con gli amministratori e poi abbiamo detto come i progetti a base digitale soddisfano le politiche in cui la questione tecnologica è secondaria perché abbiamo adottato l'idea che non dovevamo dire quali tecnologie ma quali servizi in rete volevamo produrre e quali reti di conoscenza si portavano dietro quindi senza dare connotazione con nessun assessorato tirando dentro quindi non attraverso il consorzio questa è un'altra modalità attraverso le strutture interne della regione abbiamo costretto la regione a darsi un strumento di lettura integrata di politiche e contributi faticosissimo in più abbiamo inventato un altro marchigegno di comunicare questo tipo di impostazione agli stakeholder quindi non tirarli per ora coinvolgerli nel tiro al bersaglio sulle ipotesi e sulle proposte adesso metteremo insieme le risultanze di questo matching e ritorneremo a loro in un tavolo dell'alleanza in cui si dice allora i nostri progetti sono questi i vostri progetti quindi il partenariato è al contrario quali sono per sfruttare questo faccio un esempio semplice abbiamo intenzione di ottimizzare il centro i centri servizi per lo stoccaggio dei dati e di renderlo disponibile al territorio tu mi devi dire quali i tuoi dati possono andare a un singolo ti chiederò se siete gli architetti mi dite ma per poter mettere i tuoi dati da me tu devi digitalizzare il tuo sistema produttivo e quindi devi sviluppare modelli che siano coerenti anzi mi devi aiutare nel mio sviluppo in modo che io non faccio un disegno proprietario faccio un co-design con te questo è un marco ingegno quindi non un approccio il gruppo studia ottiene l'integrazione che sottopone all'aggiunta per ma partire da subito ecco il tema del change di cui parlavamo prima partire da subito a infilare dentro il processo i sistemi diciamo di contaminazione con una fatica enorme ma riducendo al minimo la risorsa esterna su questa cosa siamo in pochissimi quelli che da fuori aiutano in questo progetto e puntando sulla risorsa interna è vostra l'Umbria su questa cosa sono andati adesso vediamo forse andremo bene poi vi racconterò su altre cose non sono molto brillanti però questa è stata un'operazione abbiamo fatto anche un evento digitale abbiamo impostato una la diciamo definizione del portafoglio dei progetti è un'operazione di condivisione accompagnata fino alla definizione del portafoglio quindi non è solo top down allora modalità interessante quindi trovare criteri di lettura integrata delle politiche la cultura è uno sicuramente risponde alla società della conoscenza ma non è detto che la cultura sia solo conoscenza risponde eccetera eccetera conviene questo è il mio suggerimento operativo trovare driver più trasversali più trasversali eh poi vi farò vedere anche come è impostato magari quell'altra cosa più tardi così a questo punto una volta che abbiamo disposto quali processi su quale cose ci sono cominciamo a ragionare su come muoversi conosciamo il territorio e qui cominciamo a illuminare le aree progettuali prevaventi quindi la cosa interessante è diciamo il processo di costruzione l'architettura logica eh se io voglio ottenere forme diciamo che siano in grado di interagire l'interazione la devo studiare prima non lo posso studiare dopo e diciamo la l'idea forte era che il filo conduttore di tutte queste iniziative deve essere puntare sui giovani con l'attrazione giovanile della strategia e quindi tutte le aree strategiche che vanno a rinforzare l'identità culturale che fanno la riconversione che formano e che comunicano debbono essere in grado di coprire ciascuna per quota parte le grandi aree vedete i colori posizionano l'identità nel cambiamento e nell'attrazione la riconversione su tre obiettivi e così via i colori significano nel mezzo trovate poi i progetti chiave che si pensa di mettere in campo questa è del 2007 quindi paghiamo lo scotto di essere fra i primi che l'hanno fatto però diciamo c'è un interessante ragionamento strategico dopodiché diciamo queste azioni chiave verranno sviluppate a valle quindi studiare il territorio i sottosistemi individuare le forze debolezze rileggere in termini di politiche che possono abilitare le politiche abilitanti clusterizzare queste politiche dire che è comune a tutti ci sono dei processi di produzione di capitale di diversa natura quindi da quello finanziario a quello intellettuale e poi in funzione dei fabbisogni o delle politiche emergenti dire qual è l'idea guida che ci conduce e su questo trovare la copertura sui progetti eccetera fatta questa operazione cominciano a immaginare come costruire il sistema facciamo quest'ultima cosa allora naturalmente bisogna mettere in piedi un sistema dicevamo interorganizzativo interorganizzativo che faccia la governance questo sistema ha questi tipi di caratteristiche questo lo troviamo è una cabina di regia che fa coordinamento gestisce i progetti e fa erogazione di fatto è trasversale per i preassessorati perché se tutti lì dentro l'industria l'agricoltura però diciamo lo facevi con un ente la fondazione quindi abbiamo c'è un po' di casino nel sistema di governance hai la regione hai il consorzio hai la fondazione però stiamo ragionandoci c'è un troppo affollamento ecco diciamo c'è troppo affollamento se dobbiamo prendere una lezione dobbiamo ridurre la fondazione perché la fondazione? la fondazione ha alcuni vantaggi alcuni vantaggi di snellezza eccetera e teoricamente permette all'ente di governo di fare l'indirizzo al controllo di questa cosa quindi sarebbe il governo la fondazione e poi scendono tutti gli altri naturalmente quando cominciano a scendere fuori tutti gli altri i vari assessorati a questo punto li intercetto sotto non li intercetto più sopra questo è uno dei problemi allora è un soggetto quindi gestore è una cabina di regia è un soggetto gestore che essendo fondazione può avere un proprio patrimonio di scopo questa è la storia puntista giuridico so poco però diciamo anche le fondazioni bancarie stanno lavorando in questa maniera molte fondazioni bancarie sono posti come soggetti erogatori di iniziative sul territorio conforme appunto la banca intesa la San Paolo tutti stanno facendo per replicare un soggetto erogativo sul territorio delle marche perché per esempio non esistono da credi che io sappia da Bologna in giù soggetti di tipo fondazione analoghi a Cariplo infatti loro volevano tirare dentro banca delle marche questa era l'idea forse la logica è questa quindi l'idea della fondazione avendo la fondazione la fondazione deve erogare quindi non deve assicurare diciamo utili e margini è un sistema regolato con attori diversi però diciamo sono appunto per lo meno tre livelli il livello regionale il livello della fondazione adesso poi vedremo loro hanno fatto poi una struttura organizzativa per gestire perché vogliono gestire lo sviluppo integrato di partecipazione quindi la costruzione la tengono loro cioè la rete delle reti la costruiscono loro in questo modello poi vedremo nella realizzazione non è così la realizzazione poi salteranno però quindi tutto il processo di costruzione delle filiere è in mano loro e tutta la gestione delle grandi iniziative hanno fatto naturalmente tutto il loro monitoraggio rilevazione sul territorio da questo punto di vista un'operazione effettivamente interessante naturalmente il limite che è solo dell'ascolano se tu vuoi fare la ricognizione regionale su questa cosa naturalmente essendo soggetto diritto privato dovrebbe lavorare un po' meglio a questo punto immaginano che le gambe di questo governo sono delle unità operative un po' l'idea della business unit cioè un'unità di gestione di attuazione che ha tutte le leve per poter conseguire quella missione relativa a quei progetti eccetera eccetera che abbiamo visto prima quindi quelle filiere che vedevamo prima progettativa e derogativa tutte e due il potere è forte è di gestione degli eventi quindi con un potere di comando quindi in realtà pur facilizzando la partecipazione è un modello molto centralizzato questa è la loro vedremo che la soluzione non sarà poi questa ma qui l'idea è se io voglio ottenere effetti sul territorio io devo avere il governo del territorio ma in maniera forte tu vieni da me io ti guido nella progettazione tu hai le tue autonomie quindi in questo senso assomiglia più alle filiere della grande impresa che alle reti orizzontali con queste grandi gambe sono quattro le unità operative sono esattamente l'identità culturale la riconversione la formazione la comunicazione quindi sono unità verticali che quindi presidiano gli obiettivi strategici di area che hanno dei progetti specifici da realizzare e quindi diciamo l'integrazione l'hai ottenuta nel disegno complessivo e l'idea che progettando queste cose generano sono in grado di governare l'attrazione giovanile e la faccio come? con l'identità la riconversione la formazione e la comunicazione dovrebbe individuare persone che vanno dentro allora modello ci fermiamo qua perché così facciamo un attimo di pausa che elabora lo studio strategico fino alla fattibilità quindi va fino in fondo adesso non so qual è stato il rapporto con la provincia in questo periodo però sicuramente tu stai affidando a qualcuno che è un consorzio che è partecipato che ha delle competenze di fare un grande studio sono 200 pagine questo studio qui che giustifica le scelte organizzative arriva in funzione di alcuni assunti la cultura e gli approcci alle filiere dei modelli di governance e dei modelli operativi e arriva diciamo è una prima concretizzazione attraverso uno studio di un'opzione di politica che era nelle carte della regione da qualche anno prima ma che non aveva mai trovato gambe quindi un soggetto consortile si offre come soggetto di prima progettazione di architettura per risolvere una ipotesi di politica che le strutture non erano in grado di fare perché questa poi è la verità perché la struttura non è abilitata a farla allora invece di fare la mega consulenza che è la struttura in realtà hanno affidato questo lavoro poi peraltro c'era un gruppo di consulenti dentro della Godwill che diciamo hanno aiutato a confezionare perché c'è il consorzio ma poi c'è il gruppo di elaborazione che è un di cui del consorzio una cosa molto complessa andiamo a mangiare